La giunta ad Alberto mette da parte la fase ecumenica e dà il via a quella secolare. E così dopo aver seguito l'invito di Gesù, che esortava i suoi a non far sapere alla mano sinistra ciò che fa quella destra, e la partecipazione alla conferenza stampa in curia con tanto di vescovo al fianco, adesso è il momento di venire al concreto e trovare i veri colpevoli della vicenda della ZTL. Scopriamo allora che gli unici veri responsabili di quanto accaduto due giorni fa, con l'assessore di Padova che annunciava la fine della ZTL e la riapertura al traffico nel centro storico, e il sindaco che la smentiva, gli unici colpevoli dicevamo, indovinate chi sono? Ma facile da dire, l'ex sindaco Maurizio Brucchi e il commissario prefettizio Luigi Pizzi. Trovati così i colpevoli si va avanti, felici e contenti, con due e non uno di capri espiatori. E così il sindaco continua a fare il sindaco, con l'aggiunta al suo fianco, e l'assessore continua ad occupare la poltrona, e quella delle dimissioni è una pratica della quale si può parlare solo al telefono e basta. Bastasse questo per cancellare una figuraccia colossale saremmo tutti contenti. Così però non è, perché alla domanda che fine farà la ZTL, ebbene a quella una risposta chiara e precisa non c'è stata, perché da quanto si è capito dai vari farfugliamenti, è vero che la ZTL non si tocca, ma c'è sempre la famosa postilla che la soluzione poteva essere presa in esame come extrema razio. In pratica, se troviamo soluzioni che al momento, ma pensiamo anche per il futuro, non ci sono e non ci saranno, allora per forza di cose, tirati per i piedi e costretti dalle vicende economiche, politiche e plutocratiche, bisognerà annullare la ZTL. Le colpe, ovviamente, saranno dell'ex sindaco Brucchi, al quale verranno attribuite anche le responsabilità della fame del mondo, il buco dell'ozono e la crisi politica in Venezuela. Gian Guido D'Alberto andrà avanti e porterà la croce delle responsabilità, non quella della Via Crucis. Dovessero arrabbiarsi gli alleati atei, hai visto mai? Grazie a tutti, grazie a tutti.